gentili telespettatori buona giornata matteo bassetti è incontenibile lanciatissimo in questi giorni beh viene invitato mattina pomeriggio e sera a volte anche a pranzo e cena nelle televisioni mi sono chiesto ma avrà un compenso o sono ospitate gratis gli daranno qualche 100 euro o gli diranno come hanno detto a me quando scrivevo su un quotidiano e non ti paghiamo ma tu ti fai un nome come funzionerà bassetti prenderà migliaia di euro o niente o solo in alcuni casi vabbè rimango così nel dubbio che ho oggi ma è adesso se la prende sempre di più con i novax con le persone che hanno deciso di non vaccinarsi il vaccino sappiamo che non è obbligatorio in italia e lui dice beh dovremmo impedirgli di entrare il centro storico ecco ieri ha detto che bisognerebbe mandare i carabinieri a casa dei novax io stavo facendo due calcoli e mi sono chiesto 7 milioni e 400 mila persone che non si sono vaccinate se tu vuoi mandare almeno tre carabinieri a casa di ogni persona ci vorrebbero tipo 22 milioni e mezzo di carabinieri cioè di militari non so quale stato nel mondo ha in effettivo 22 milioni e mezzo di militari credo nessuno abbia così tanti militari in attivo solo in tempi di guerra diventano tutti militari quelli tra 18 e 65 anni però bassetti manderebbe i carabinieri a casa dei novax cosa che non ha senso vi dicevo ieri perché se se il vaccino è opzionale puoi farlo non farlo macchette mandi bassetti macchette mandi ma poi anche in caso di obbligo amica mandi carabinieri a casa della gente in caso di ad esempio è obbligatorio pagare il canonerai non lo paghi e cosa fai mandi a casa i carabinieri con con il post bene me lo paghi adesso in caso di obbligo ci saranno delle multe anche molto pesanti ma queste sono delle delle cose che eventualmente vedremo un giorno ma non adesso ecco però adesso oggi bassetti ce l'ha sempre coi novax dicendo che bisognerebbe entrare nei centri storici solo con il super green pass quindi centro storico vietato ai novax dice così matteo bassetti che ricordiamo è primario di malattie infettive all'ospedale san martino di genova adesso è ad agorà su rai 3 programma di luisella costamagna e dice il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con terza dose perché senza non abbiamo il muro che ci protegge dalle varianti nel 2022 penseremo alla quarta dose credo che arriverà quasi certamente bisogna solo capire quando spero che la quarta dose arrivi come richiamo annuale da fare nella seconda parte dell'anno insieme all'anti influenzare a parlare così è appunto vi dicevo matteo bassetti che è contrario a qualsiasi chiusura chiusura per i vaccinati attenzione dice giù le mani dal natale ormai ci siamo mancano due settimane e sarà da vivere come lo abbiamo sempre vissuto purché ci siano alcune accortezze tra cui quella di vaccinarsi perché ricordiamo ai tanti detrattori che se anche qualcuno si contagia dopo la vaccinazione si contagia in maniera lieve avremmo forse dovuto fare di più per insegnare ad usare le mascherine quali usare dove usarle come usarle dopodiché la regola dell'obbligo della mascherina avremmo potuto sistemarla in un modo diverso vuoi entrare in un centro storico affollato anche lì la proposta dell'infettivologo è super green pass super green pass alla fine che cos'è perché la parola super green pass viene è stata diciamo così coniata e viene utilizzata sia dalla stampa sia dal dai gli attori di governo attori è proprio la parola giusta attori un po alle prime armi no super green pass il green pass super green pass non è altro che certificato sanitario vaccinale ecco quando si parla di super green pass si parla di certificato vaccinale sanitario cioè tu puoi fare determinate cose se sei se hai un certificato sanitario questa è la realtà lo chiamano super green pass perché così la maggior parte della gente non quella si chiama questa si chiama manipolazione del consenso tramite la la trasformazione delle parole ecco queste sono le basi della manipolazione del consenso ci sono tante tecniche c'è anche quella della manipolazione delle parole la manipolazione la manipolazione tramite le parole usate vi faccio un esempio quando giuseppe conte giuseppe voleva aumentare l'iva i giornali fiancheggiatori del suo governo di sinistra dicevano in trafiletti mezzi nascosti che il governo stava pensando alla rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto al posto che titolare il governo sta pensando di aumentare l'iva il governo sta pensando sta riflettendo su una rimodulazione della dell'imposta sul valore aggiunto che cacchio vuol dire e cambiava argomento avete capito la manipolazione mediatica verso il popolo passa anche dal dal trasformare le parole per non far capire esattamente quindi la parola super green pass viene utilizzata per cercare di non far capire il più possibile quello che è perché il certificato sanitario obbligatorio chiamato anche super green pass o green pass rafforzato è a tutti gli effetti un lockdown per i non vaccinate questo bisogna dire anche le cose come stanno bassetti poi aggiunge già sancito che se c'è un assembramento bisogna mettersi la mascherina ritengo ridondante mettere la mascherina all'aperto in un'area particolare che ci sia la gente a fianco sia che non ci sia per obbligo io credo che dopo quasi due anni che abbiamo a che fare con la pandemia si debba uscire da queste logiche costrittive e si deve andare nella consapevolezza della gente dice vabbè quindi è un bassetti diciamo a favore un bassetti a favore del delle libertà per i vaccinati ma a favore di restrizioni quasi totali per chi non si è vaccinato io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e grazie